... Decisione presa, nessuna assegnazione di migranti nel Bassanese, almeno per il momento. Bagare in consiglio comunale per una mozione sul Green Pass, voci di mal di pancia in maggioranza. Il segretario cittadino della Lega getta acqua sul fuoco, nessuna attenzione sulla mozione Brunelli. Tornano al mercato di Bassano i banchetti per la raccolta di firme per una sanità diversa. Appello accorato di due genitori che chiedono aiuto per assistere il loro bimbo affetto da una patologia rara. Il Trentino apre sul prolungamento della Val d'Astico e finco avverte occasione da non perdere. E dalla grande guerra avai a 21 progetti d'arte e di cultura per disegnare il nuovo volto del territorio. Paura nella notte a Galliera Veneta per l'incendio di un'abitazione lungo l'intervento dei vigili del fuoco. Inaugurata a San Giorgio delle Pertiche una rotatoria sulla strada del Santo del costo di 650 mila euro. Buonasera a voi telespettatori, benvenuti ad una nuova diretta di Bassano TG. Parliamo di due giorni di incertezza ed è finalmente arrivata la notizia ufficiale. Non sono previste assegnazioni di migranti nel Bassanese, almeno per il momento. Il nostro primo servizio. Il flusso continuo di migranti in arrivo in Veneto dalla Sicilia lambisce il Bassanese e la Pedemontana. Ma per il momento i richiedenti asilo non arriveranno nei comuni del territorio. Sarebbe questa l'indicazione delle prefetture venete di queste ultime ore dopo le tensioni e la sovrapposizione delle notizie che avevano creato un certo subbuglio anche sulle due rive del Brenta nella giornata di giovedì. Della settantina di migranti destinati alla provincia di Vicenza, i primi nove sono stati infatti destinati all'area berica anche se non è dato sapere come si muoveranno poi gli uffici di rappresentanza del governo con il resto delle 380 persone in arrivo dagli sbarchi delle ultime ore. Si parla di accoglienza diffusa e questo dato sta creando una levata di scudi da parte di sindaci che da giorni chiedono che non si scarichi sui comuni la gestione di questa situazione. Gli amministratori sottolineano infatti come le novità delle ultime ore riguardanti l'accoglienza possono far sorgere tensioni sociali in un momento di grande difficoltà per le famiglie alle prese con gli strascichi dell'emergenza Covid e con l'esplosione dei costi dell'energia per non parlare dell'inflazione. Era stato molto chiaro ad esempio il sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin che ai nostri microfoni aveva detto prima vengono i cittadini di Romano ma questa fase è solo all'inizio e fra i sindaci regna ancora grande incertezza su cosa accadrà nei prossimi giorni. Bagarra in consiglio comunale a Bassano che a causa di una mozione portocollata e poi ritirata ha creato qualche mal di pancia in maggioranza. È durata il tempo di una votazione, anzi 2, la mozione presentata all'assemblea cittadina bassanese dalla consigliera di maggioranza Ilaria Brunelli per chiedere l'abolizione immediata dell'obbligo di Green Pass nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo. L'arrivo del provvedimento in aula avrebbe infatti provocato parecchi mal di pancia nella stessa maggioranza non tanto per il tema di indubbio interesse di portata nazionale quanto per le modalità di presentazione della mozione sottoscritta infatti da due sole consiglieri di maggioranza e pare non concordata con la compagine di governo. Il pacchetto è stato quindi ritirato dalla stessa Brunelli ma la situazione ha sollevato la reazione delle minoranze. Non facciamo un'esibizione o il motivo per ritirare fuori contrapposizioni che purtroppo ci sono state in città al tempo del Covid perché a noi interessano gli anziani non ci interessa fare teatro non ci interessa riaprire contrapposizioni o rinfocolare contrapposizioni non ne abbiamo affatto bisogno credo che è proprio l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno quindi accolgo l'invito della consigliera a ritirare la mozione convochiamo una commissione sociale a questo scopo per porci in ascolto di ciò che Bassano può fare. Rincara la dose anche il consigliere Campagnolo che suggerisce come le dinamiche interne alla maggioranza siano andate in tilt a causa della mozione Brunelli. Abbiamo appreso ieri sera quando è intervenuta la consigliera proponente chiedendone il ritiro che la cosa non era stata assolutamente condivisa all'interno della maggioranza al punto tale che la maggioranza stessa poi ha votato per il ritiro della mozione la stessa maggioranza ripeto non ha ritenuto opportuno portare avanti questa richiesta creando di fatto un caso all'interno della maggioranza ma questa volta va dato atto del senso di responsabilità che ha avuto la maggioranza nell'arginare il protagonismo strumentale della consigliera Brunelli. Le tensioni sarebbero confermate inoltre dalla bagarre scoppiata al momento del voto con consiglieri fuori dall'aula e una seconda votazione dal risultato piuttosto risicato approvazione del ritiro per 12 voti a 11. La chiosa di un momento così particolare del consiglio spetta il presidente dell'assemblea che manda tutto in archivio così. Dopo questa bella figura in ufficio di presidenza sarà mia cura richiamare all'ordine ancora tutti una volta perché così non si va da nessuna parte. E sulla bagarre politica legata alla mozione della consigliera di maggioranza Ilaria Brunelli arrivano le rassicurazioni della Lega Bassadese. Tutto in ordine nessuna attenzione dice il segretario cittadino del partito Andrea Viero. Questo non sottolinea una spaccatura all'interno della maggioranza secondo lei? Ma no ma credo che queste tematiche non siano momenti di divisione ma siano semplicemente momenti di confronto. È chiaro che appunto su queste tematiche diciamo nazionali dove le sensibilità sono diverse è normalissimo in democrazia è così che ci siano appunto delle espressioni anche diverse da questo punto di vista. Anche perché tra il sì e il no c'è stato un punto di diversità? Beh ma è chiaro ma questo non vuol dire nulla. Ripeto le tematiche sono elevate rispetto a quello che è magari l'ordinarietà di un'amministrazione comunale. Si parla di temi nazionali si parla di sensibilità diverse si parla anche di esperienze diverse derivanti da quello che è stato il vissuto di questi due anni di ogni singola persona e quindi è anche giusto che i consiglieri comunali si esprimano in maniera libera. E tornano in piazza i banchetti della raccolta firme per una sanità diversa sabato mattina i volontari saranno in Viale delle Fosse a Bassano. Ritornano al mercato del sabato i banchetti per la raccolta di firme per una nuova e diversa sanità della Pedemontana. I promotori hanno deciso di tornare in Viale delle Fosse a Bassano domattina in occasione del mercato settimanale dato il riscontro evidente di una necessità da parte della popolazione. In pochi giorni sono state infatti raccolte centinaia di firme da parte di cittadini di tutto il territorio che vanno a sommarsi alle 3.000 già raccolte nella prima fase di questa iniziativa. I cittadini hanno raccontato ai volontari le loro esperienze con l'Ulse 7 Pedemontana sottolineandone spesso la disorganizzazione. La gente però ha sempre parole di allogio per medici, infermieri, operatori e personale per la qualità della loro opera quotidiana. Il banchetto per la raccolta di firme sarà aperto dalle 9 fino alla tarda mattinata in uno degli ingressi al Salotto Buono Cittadino. E arriva da Rossano Veneto l'appello accorato di due genitori che chiedono aiuto per assistere il loro figlio affetto da una patologia rara. Ettore ha 6 anni ed è affetto da una rarissima malattia la sindrome di Moebius che comporta la paralisi dei nervi facciali per cui è costretto a tracheostomia e PEG per questo necessita di costante assistenza sanitaria anche alla scuola materna che il piccolo frequenta a Mottinello. Purtroppo l'orario scolastico non riesce a essere coperto integralmente da un operatore sanitario che segue il bimbo capace di eseguire manovre salvavita in caso di urgenza e i genitori la mamma pluricampionesta nazionale di Eptatron e Elisa Trevisane e il papà Riccardo Dal Porto stanno facendo a turno la spola a scuola per essere accanto al loro figlioletto una situazione che sta diventando insostenibile. Noi abbiamo chiesto da molti anni ormai di avere una copertura totale dell'assistenza sanitaria per il nostro figlio perché in questo momento dalla ASL ci vengono date solo 16 ore di copertura mentre Ettore potrebbe frequentare la scuola come tutti gli altri bambini per tutte le ore ma questo non ci viene negato in questo momento. Con la mancanza di personale sempre pronto è quello che lamentate anche. Il problema è che ci vengono date a volte delle OS dove hanno una formazione veramente base e tutto questo percorso faticoso che abbiamo fatto quest'anno è andato in tilt tanto che sono qui a scuola ad assistere Ettore. Intanto con il lavoro come la mettiamo? A febbraio ho la scadenza di tutti i permessi possibili che posso utilizzare e il rischio è il licenziamento comunque. Riccardo e Delisa intendono farsi portavoce di tutte quelle famiglie nelle loro condizioni. Ci sono tante famiglie che hanno questa problematica di assistenza formata ma anche a livello proprio di quantità di ore. Quello che chiediamo non è niente di più di far rispettare quelli che sono i diritti dei nostri figli. Voi vi siete rivolti anche proprio alla regione nello specifico all'assessora regionale Emanuela Lanzarin. Sì, l'anno scorso abbiamo avuto un incontro con l'assessore che ci ha detto che non può fare niente perché ha delegato all'ASL e l'ASL ci ha risposto che se vogliamo più ore di assistenza dobbiamo pagarcela quindi noi dobbiamo dovremmo secondo loro pagare per avere quello che è un diritto di nostro figlio. E il Trentino apre al prolungamento fino a Rovereto della Valdastico e il vicepresidente del consiglio regionale Nicola Finco avverte questa è un'occasione da non perdere non aspettiamo altri 40 anni Sì, al prolungamento dell'autostrada Valdastico fino a Rovereto la provincia autonoma di Trento apre al collegamento con il Veneto e improvvisamente torna alla vita un'opzione che sembrava finita nel dimenticatoio Per il vicepresidente del consiglio veneto Nicola Finco questa è un'occasione da non perdere Penso che dopo 40 anni di no da parte della provincia di Trento forse è giusto iniziare un dialogo con la provincia visto che il presidente Fugatti si è dimostrato favorevole anche perché la questione della Valdastico Nord non riguarda solamente la provincia di Vicenza e il nostro tessuto imprenditoriale ma tutto il nord-est perché vorrebbe dire aprire una nuova arteria verso il nord Europa Lo sbocco trentino della Valdastico potrebbe liberare o decongestionare la grande malata del territorio ovvero la statale Valsugana che soffoca la Val Brenta È vero che la Valdastico Nord riguarda l'Alto Vicentino ma riguarda in parte anche il Bassanese perché noi oggi abbiamo come unica strada la Valsugana che sappiamo benissimo come è presa e tutti gli ingorghi che si verificano non solo durante i fine settimana ma anche durante i giorni ordinari quindi oggi creare un nuovo sbocco a nord vorrebbe dire anche alleggerire la statale della Valsugana e creare veramente due arterie fondamentali per la crescita anche economica L'asse sud-nord si innesta sulla viabilità esistente che oggi e soprattutto domani vorrà dire strada Pedemontana-Veneta A breve entrerà in vigore tutto il tracciato della Pedemontana quindi con un aumento di flussi proprio sui nostri territori e mi chiedo veramente per quale motivo qualcuno senza magari approfondire la cosa senza incontrarsi col presidente Fugati abbia già detto un ossecco al prolungamento a nord con l'uscita a Rovereto Ecco quindi l'invito di Finco alla politica veneta Penso che sia gli amministratori locali del territorio ma anche la provincia e la regione del Veneto su questo tema ovviamente debbano assolutamente fare degli approfondimenti e trovare quanto prima una soluzione col presidente Fugati E a borsa del grappa i vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere un parapendista finito sui fili dell'alta tensione a seguito di una manovra errata sul posto anche il Suem 118 e il soccorso alpino Mentre parliamo ora di un incendio del tetto di una palazzina di due piani nel pomeriggio di oggi incontrata Frisoni al confine tra Enego e Fozza le fiamme hanno intaccato 20 metri quadri di copertura in legno e solo l'intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse all'interno dell'edificio pare che all'origine ci sia stato il surriscaldamento della canna fumaria ora invece parliamo del programma della grande guerra alla tempesta vaia che si è concluso questa mattina 21 progetti d'arte e cultura che hanno ridisegnato il volto di un territorio devastato dall'ottobre del 2018 dalla tempesta vaia la grande guerra in quattro anni sconvolse la vita di milioni di uomini e cambiò in modo definitivo il volto dell'Italia invece la tempesta pardon l'uragano vaia in quattro giorni sconvolse il nord-est con raffiche di vento tra i 100 e i 200 km orari lasciando dietro di sé tre vite umane oltre che un territorio completamente devastato e ci hanno pensato arte e cultura a creare un percorso di connessione lontano 100 lunghi anni tra la grande guerra e la tempesta vaia grazie alla collaborazione tra la regione Veneto e la presidenza del consiglio dei ministri attraverso un progetto di riqualificazione del territorio il progetto è stato realizzato intanto con l'emanazione di un bando noi avevamo a disposizione un qualche centinaio di miliardi di euro per realizzare questo progetto noi avevamo pensato di fare un bando questo perché? perché volevamo avere delle proposte dal territorio scegliere le migliori le realizzazioni sono state sono state diverse è stata l'occasione per o riattivare o creare degli itinerari sul territorio che portassero cittadini e turisti e visitatori a frequentare i luoghi interessati dalla grande guerra e dalla tempesta vaia è stata l'occasione per elaborare dei testi teatrali delle performance teatrali anche molto molto suggestive decine di migliaia di alberi abbattuti raccolti 3 milioni di metri cubi di legna un progetto che donano nuova identità a un territorio dal volto riconoscibile gli itinerari sono itinerari sui luoghi interessati che quindi ci portano a vedere le cose più interessanti sono stati tabellati quindi sono itinerari che comunicano a volte c'è la possibilità anche di di avere delle la realtà aumentata e la festa del ringraziamento degli agricoltori di Coldiretti torna nella Bassanese e domenica mattina ci saranno le celebrazioni al santuario di Scaldafferro torna nel Bassanese la giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti che si svolgerà domenica nel santuario di Scaldafferro a Pozzoleone un centinaio di trattori accoglierà gli agricoltori vicentini fuori dal santuario dove alle 10 verrà celebrata la messa dal vescovo berico Beniamino Pizziol al termine della celebrazione come di consueto si procederà con la benedizione delle macchine agricole un momento sempre molto atteso dai lavoratori della terra la giornata del ringraziamento arriva in un momento particolare per il comparto primario che guarda alle sfide del futuro dopo anni di difficoltà legate al covid e agli aumenti dei costi delle materie prime Mussolente in lutto per la scomparsa del dottor Giampaolo Negri lunedì sono previsti e sono previsti i funerali se ne è andato in punta di piedi lasciando un vuoto enorme in tutta la comunità di Mussolente il dottor Giampaolo Negri scomparso all'età di 69 anni storico medico di base una figura di riferimento per chiunque fosse residente nel capoluogo e nella frazione innamorato del suo lavoro volto alla cura e all'assistenza dei malati deciso fermo appassionato instancabile da molti è stato definito un angelo per la dedizione e l'attenzione con cui tutti i giorni riceveva i pazienti nel suo ambulatorio li seguiva a domicilio li confortava la notizia della sua morte ha lasciato senza parole l'intero paese e chi lo conosceva professionista stimato innamorato dello sport del tennis soprattutto tanti lo ricordano sui campi del palazzetto dello sport di Casoni dove incontrava e affrontava gli amici di Racchetta e il sindaco di Mussolente Cristiano Montagner ha voluto ricordarlo così io l'ho definito un missionario della salute e uno scrigno dei veri valori umani è quello che lui è stato è e sarà nei nostri cuori il dottor Negri era stato premiato come una delle eccellenze del comune è stata per noi una grande cosa riuscire a consegnarle direttamente a lui perché lui è una delle eccellenze se non la prima eccellenza del nostro territorio lunedì prossimo 14 novembre alle 15 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Mussolente ora vediamo altre notizie dal territorio incidente stradale in mattinata a Bassano lungo via De Gasperi all'altezza della rotatoria all'intersezione con via del Cristo coinvolti tre mezzi che si sono tamponati sul posto per i rilievi la polizia stradale traffico rallentato il comune di Tiene propone da lunedì nella palestra digitale di Villa Fabris un nuovo corso per conoscere il proprio cellulare nello specifico usare whatsapp google maps speed sanità chilometri zero e zero coda domani poveriggio il gruppo alpini di Cittadella festeggia il traguardo dei 90 anni d'attività sarà l'occasione per conferire la cittadinanza onoraria da parte dell'amministrazione comunale e della comunità ritrovo alle 15.30 nel piazzale del milite ignoto paura nella notte a Gagliera Veneta per l'incendio di un'abitazione si temeva che in casa ci fossero delle persone quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marconi a Gagliera Veneta le fiamme avevano avvolto completamente l'abitazione fortunatamente in casa non c'era nessuno paura nella notte a Gagliera Veneta per l'incendio di un'abitazione che solo alla fine si è scoperto essere disabitata le operazioni di spegnimento del rogo sono terminate dopo l'una di notte ed erano iniziate in serata le fiamme sono divampate per cause ancora in corso di accertamento hanno bruciato gran parte dell'abitazione causando il crollo del tetto i pompieri sono arrivati da Cittadella Castelfranco e Padova lunghe le operazioni di bonifica per la notevole quantità di materiale trovata accattastata all'interno dell'abitazione e questa mattina è stata inaugurata a San Giorgio delle Pertiche la rotatoria sulla strada del Santo alla presenza del sindaco Daniele Cannella e della vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti che ha definito l'intervento come necessario per garantire la sicurezza stradale la rotatoria inaugurata oggi rappresenta un intervento infrastrutturale dalle ricadute non solo in termini di viabilità ma anche in termini economici per un territorio che dal punto di vista industriale agricolo e commerciale è uno dei più vivaci della regione come ha detto la De Berti tagliando il nastro l'intervento del costo complessivo di 650 mila euro è stato realizzato da Veneto Strade attraverso le risorse assegnate dalla regione prima serata con il nostro direttore Luigi Bacialli in diretta a Focus ospiti Saragno Tania Busetto Vincenzo De Pra Manuela Dongi Paolo Fracco Ivan Palasgo Chiara Peronna Valentina Pillon e Massimo Venturato ora come sempre in chiusura di telegiornale ricordo le previsioni del tempo di domani non ci sono altre notizie grazie per essere stati in nostra compagnia arrivederci